ciao ragazzi oggi ho deciso di mostrarvi la mia spesa sono stata in due supermercati differenti però siccome la spesa non era molta quindi ho deciso di unirvele in un unico video cornetto senza latte senza uova senza burro senza cornetto cannelloni ciambelline con lo zucchero sopra pomodorini patate, due melanzane, viola, fiori canna, carta igienica e un detersivo per la lovatrice panini per hamburger dolci di ban ci siamo andati principalmente perché c'era la pepsimax da mezzo litro in offerta 39 centesimi quindi ne abbiamo prese due casse un altro pacco di ban cookies con le gocce di cioccolato quelle là con le gocce non c'erano queste briochine crema e mela di solito prendo quelle con la marmellata di mirtillo no quello rosso come si chiama di frutti rossi ma non c'era proveremo questo alle mele pane per pane per tendici americani madonna niente bucce dai che schifo veramente un pacco di morbidoni un pacco di panini alle olive pastina pastina fogaccine zucchero poi rosciutto cotto galvani rosciutto no galvanone a fette pecorino romano pecorino primo sale e al peperoncino asiago a fette rosciutto cotto rosciutto cotto rosciutto cotto salami riccante salami ingrese rosciutto crudo gorgonzola caciottina val fiorita burro un altro pacco di salami di tante gnocchi di patate mozzarella o limonare o limonare con due buca no l'hai trovata poi ricotta fresca fontal gu da fette edamer hummus di ceci vegano perfetto quel posto c'è va bene è un fatto bravo è andato a ruba è andato a ruba è molto buono mozzarella di plastica yogurt con i croccantelli un pezzo di formaggio al pepe primo sale al peperon yogurt fragole con gli smarties e un pezzo di brie tagli da serecci tagli da serecci pellicola riso e latte pangolo c'è il latte patatine e paprika succo pesca tivo rizzo tivo rizzo pane americano integrale panna 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 zucchero zucchero chipster uova questi fake nutella biscuits che sono più buoni di quelli dell'italo quelli dell'italo detersiva meri piatti tomoboli flow morcello flow ma poi dopo l'ultimo set non è che li mi chiede no poi li devo scrivere perchè mi è chiesto che gli scrivo i prezzi perciò li scrivo direttamente poi latte parzialmente scremato succo pera zuccoace 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 un altro passo di castiglione macello flau colottoli toveglioni pasta smacchiatore oggi invece siamo stati da Lidl e abbiamo comprato carta da forno in fogli e queste salse senapate che sono tipo delle marmellate fichi pere e clementine e quelle la cipolla pomodoro e un'altra sono molto più buone ma non c'erano polenta al formaggio polenta al formaggio tovaglioli maionese Mucella Taralli Panini tipo latte e l'olio Padole fritte Grana padano grattugiato Ho visto che sono uscite queste nuove cialde Tipologia barista Che è come quello originale Ora non lo so, solitamente il caffè dell'idormio mi piace È troppo lento, però queste le voglio provare Qui un pacco di glissini Tomato piccante Questo chutney da cipolla E questa salsa lo yogurt Spinati freschi In busta Perché domani farò i cannelloni Con la ricotta che ho comprato ieri Iceberg Questo cheddar raffette Che sui cheeseburger È buonissimo Hamburger Un altro pacco Dovrebbe esserci un altro Questo formaggio Glow Sester Non lo so cos'è Red Glow Sester Saranno quelle tipologie di formaggi inglesi Sì Tipo cheddar Non lo so Ciliegine di mozzarello Formaggi irlandesi al whisky Due avocado Del di finte Gli altri hamburger E un pacco di funghi freschi Questo è tutto per il mio video di oggi Spero che vi sia piaciuto Ovviamente vi invito A iscrivervi al mio canale Io vi saluto E ci rivediamo alla prossima Ciao Ciao